Il viaggio di TV City tra gli stabilimenti balneari della Litorania in vista delle prossime riaperture nel fine settimana. I titolari dei Lidi si stanno organizzando nel rispetto delle normative anti-covid per garantire ai loro ospiti un'estate in sicurezza. Francesco Lavela sta per cominciare la stagione balneare a Torre del Greco. Il prossimo fine settimana il suo stabilimento sarà aperto. Come vi state organizzando nel rispetto delle normative anti-covid? Quest'anno dovremmo rispettare tutte le normative anti-covid previste dal protocollo. Proprio in questi giorni abbiamo fatto varie riunioni con la cooperativa Mare Nostrum dove hanno partecipato tutti i gestori sia della Litorania che Porto Scala. Quest'anno c'è molta unione rispetto a tutte le dicerie che si dicono in giro. Quindi abbiamo fatto una linea comune con tutti gli stabilimenti balneari sia come prezzi che come gestione per questa situazione del covid. Aspettare il distanziamento sociale, come avete provveduto alla sistemazione degli ombrelloni? La normativa prevede 10 metri quadri, significa 3 metri e 35 per 3 metri e 35. Noi generalmente in linea di massima quasi tutte le strutture si sono orientati dai 3 metri e 50 ai 4 metri distanziati per ogni ombrellone. Abbiamo fatto un pacchetto per le famiglie, 15 euro a nucleo familiare, significa due adulti con i relativi bambini che non superano l'età di 12 anni perché poi superati 12 anni diventa la problematica che sono già più grandicelli, vogliono il lettino e quindi dovrebbero prendere un'altra postazione. È normale che non saremo un po' clementi un pochettino con le persone, in base se l'ombrelone è a fianco, casomai ci sono solo due adulti, allora uno cerca di accontentare le persone, però la normativa in generale è questa, bisogna rispettare le regole, usare la mascherina ancora nelle aree pubbliche, quindi nell'area solarium, al bar, nei servizi igienici, però come dice la normativa sotto l'ombrellone oppure al mare si può evitare la mascherina. Quindi i prezzi sono rimasti invariati rispetto all'estate scorsa? Allora l'unica cosa che è stata invariata è che l'anno scorso avevamo un pacchetto famiglia che comprendeva quattro adulti, mentre quest'anno proprio per come dice la normativa ci riserviamo al nucleo familiare. È normale che due amiche che scendono sotto un ombrellone, due persone adulte, mettono il lettino un metro e mezzo di distanza l'uno all'altro, cioè lo spazio possono scendere perché poi se vengono insieme al mare o vengono a mangiare al ristorante, loro sono responsabili di se stesse e noi non possiamo essere i vigilanti dall'alto. Cioè noi ci prestiamo a queste normative che ci hanno detto. Poi ognuno c'è il buon senso dei nostri ospiti e clienti. Quindi visto che ci sarà comunque una riduzione degli ombrelloni rispetto alla scorsa stagione, come pensate di fronteggiare la crisi? Diciamo che noi della zona litoranea, Torre del Greco, zona scala, abbiamo pensato che anche le altre persone in crisi come noi ci hanno questa problematica. Allora non abbiamo aumentato i prezzi eccessivamente, ci siamo limitati solo, tipo il lettino si pagherà 6 euro durante la settimana, sabato e domenica arriviamo a 8, lo stesso per il pacchetto da 15, sabato e domenica arriva a 20. perché le persone devono venire al mare, non possono stare a casa, vi invitiamo a venire a mare, non abbiamo aumentato i prezzi, ci siamo limitati neanche un 5% di aumento, proprio per dire alle persone che non possono andare in vacanza, venite a mare litoranea tutti i giorni, non vi accalcate solo il sabato e domenica, perché così venendo dividendo le persone durante la settimana e il sabato e domenica, sperando nella buona sorte del tempo e del mare, riusciremo a salvare quest'estate che si pensava ormai che era un'estate che non ci fosse. Linea comune sulle tariffe, con rincari moderati per fronteggiare la crisi. E non manca l'appello al rispetto delle regole. Quest'anno ci batteremo tantissimo per essere deliti green, significa rispettare la raccolta differenziata, questo è una cosa che abbiamo parlato nelle varie riunioni, siamo tutti d'accordo, come vedi sono già arrivati i bidoncini che ci ha portato alla ditta del comune, dobbiamo fare la raccolta differenziata, questo lo dico a nome nostro e anche a tutti i cittadini, perché solo facendo la raccolta differenziata si migliora e si risparmia anche con la tarcia. Per rispettare tutte queste regole e gestire anche l'affluenza dei clienti sarà necessario il sostegno anche delle forze dell'ordine e dell'amministrazione comunale? Sì, io dico alle forze dell'ordine come ogni anno, è un appello che faccio ormai da ci devono stare vicino, ma ci devono stare vicino non con quella forte repressione, ma riuscendo a capire anche la mentalità delle persone, perché noi possiamo dire stai attendo, non mettere il motorino sul marciapiede, non mettere la macchina in seconda fila, ci vuole anche un po' di senso civico, la repressione ci vuole, ma con intelligenza, perché se una persona si è fermata un attimo fuori al lito con le quattro frecce, sta scendendo la famiglia per andare al mare, e poi porta la macchina nel parcheggio, bisogna capire anche questo. In vista dunque della prossima riapertura, nel prossimo fine settimana, quali sono le sue aspettative? Io spero che saremo tutti pieni, perché la gente si è scocciata di stare a casa, ha bisogno di venire al mare, di rilassarsi, siamo stati già troppo tempo a casa. Vi dico solo una cosa a tutti coloro che verranno al mare, rispettiamo le regole, perché rispettando le regole, stando tranquilli, ci sarà un'estate serena per tutti, senza problemi, e ci goderemo questo bel mare e questo bel sole. Grazie a tutti i nostri spettatori,